Ben trovati. Come essere sicuri che Gesù ci conosce? È la domanda su cui dobbiamo riflettere oggi. Lo facciamo con il Vangelo di Giovanni al capitolo 1, quando Filippo va a trovare Natanaele per dirgli, vieni, abbiamo trovato il Signore, ti portiamo da Lui. Natanaele va davanti a Gesù e Gesù, vedendolo, dice, ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. Natanaele gli domandò, come mi conosci? Li rispose Gesù, prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto come eri sotto l'albero di Fichi. Li replicò Natanaele, Rabbi tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. La domanda di Natanaele è un po' la domanda che abbiamo ricevuto oggi ed è una domanda che spesso forse anche noi facciamo. Cioè Gesù ci conosce davvero? È possibile che ci conosca? Vedete, noi spesso non diamo fiducia a Dio. Se non diamo fiducia a Dio è semplicemente perché non pensiamo che Lui ci possa conoscere. Gesù va al di là dei nostri limiti, delle nostre miserie. Noi siamo un po' paralizzati da quello che siamo. Certe volte noi pensiamo realmente che non possiamo andare oltre un certo limite, che noi non siamo delle persone che possono fare tale o tale cosa perché siamo limitati. Tutti quelli invece che danno fiducia al Signore, che diventano strumento nelle sue mani. Prendiamo l'esempio di Madre Teresa, una piccolissima donna che ha fatto una cosa grandiosa in India. Ma perché? Perché semplicemente si era donata al Signore. Ore e ore di preghiera prima di iniziare le sue giornate. Lei aveva fiducia in Lui. Anche quando non lo sentiva più è rimasta fiduciosa in Lui. Allora noi siamo chiamati alla stessa cosa. Il Signore va al di là dei nostri limiti e fa cose straordinarie della nostra ordinarietà. Lasciamolo agire nella nostra vita e vedremo che potremo fare con Lui tantissime cose. Grazie. 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 Grazie.